Il primo giorno di 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 Oh muoviti Dario Eh dai Passami i tablati di Epstein Io l'avevo detto che dovevamo Organizzarci settimane fa Sì bravo Così i poteri forti ci avrebbero scoperti E sabotato i vostri piani Ah se mi hanno messo la verca ma posta per non farci spiare Appunto Se vedevano che eravamo Offline per troppo tempo Andavano a qualcuno dei siti seguiti A cercarci Complutisti Bambini antivaccino I kines con le loro monster Figa ci saranno tutti non vedo l'ora E appena conquistiamo la base Insegniamo agli americani cos'è un bel aperitivo In cambio ci facciamo spiegare cos'è Il club sono meglio che Il club sono meglio che Il club sono meglio che Oi ma Maro ma sempre rispondono da lei No Oi Daniele tutto ok Scusa ma stavo guardando un attimo Un po' di cose sul 4chan ho trovato Un hacker che ci farà crashare Tutti i sistemi di sicurezza e ci farà entrare Tranquilli Oh ma un hacker tipo un hacker vero Eh sì sì come quello della serie tv È presente Un hacker Già incredibile Già mi rimangono in mezzo ai computeroni A rubare i soldoni A beggiare in anonimato Sui siti porno Cioè il vero anonimato Perché sai che se clicchi su Una navigazione anonima in realtà Cioè Eh? Rubare i porno? 118! No signora no C'è stato un malinteso no No Ma come cazzo fanno Non avere sempre il telefono a portateli mano Oh! Oh! Ma questa è una stuposica Ma no? Ho dimenticato il cellulare a casa Ah ok! Bussola terra piattista Salente Le foto compromettenti delle 13 famiglie Ci sono tutte La saga completa di X-Files che farà vedere agli alieni Tutto compreso l'ultimo imbarazzante film La scorta di vaccini e antivaccini Ci sono La pistola Antirettigliani Ovviamente No! 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 Sì, nelle vicinanze, nel stato del nevada! Macribio! Che succede ragazzi, non mi seguo? Tu Giorgiana rincoglionito? Ho sbagliato a prendere il biglietto, stavo per farci andare in Spagna. Non in Spagna, l'area 51 è in Russia! Coglione! Che so voi cose che avete in testa! Sono dei capelli di carta stagnola, che portano il cervello da minacettuali, capelli etromagnetici, lettura che controllerebbe la mente. Ah, e che c'è sta innevata che controllerebbe la mente? Sentate schiapre, ha detto la sicurezza. Quello che stiamo per rivelarvi può cambiare nessuna vita. Ma prima, prima, spegnessi quella videocamera. Ah! Quella! Non funziona in realtà, è colpa del taglio di crisi di governo PIS. Ma quando le cianciano? Guardate! La verità, signore, è che gli alieni esistono. E sono imprigionati dal governo americano dentro l'area 51. Una magica... Oh, ma che? State andando? All'area 51? A liberare gli alieni? Ma dirmelo prima? Oh! Andate, amici miei, andate! Sono stanco dei segreti e delle menzioni illuminate. Io purtroppo non posso venire con voi perché mi sono giocato le ferie al papete. Ho conquistato la base anche per me! Che eroi! Ma in Nevada? Era 51, non stava in Russia. Ma Roma quanto manca? Ho aiuto! Ma taci che è colpa vostra se ci siamo presi a piedi? Sì! Ognuno aveva un compito! Tu dovevi prendere i biglietti! Tu dovevi preparare il taxi per l'aeroporto statunitense e non russo! E io? Hola! Eccoci qua! Scusa Dania, ma che dovevi fare? Eh, io ho preso l'hotel! Quanto dista sto hotel? Io vedo solo un mare camper! Eh, è lì l'hotel! Dai! Guarda! Camper 429! Ora basta un attimo, trovarlo! Facile, no? Dac! In alcuni ore, le luci di questo posto sbagliato saranno abbonate! Grazie alla help di Dacca, che crede in noi! Crede che i segreti sbagliati in questo posto possiamo salvare il mondo! Dacca! Oh! Vieni! Guarda qua! La torre di John Wick partecipa! Non vedo l'ora di beccarlo! Autografo, selfie e Dacca! Laica cascata su Instagram! Ma che selfie e selfie, Daniele? Anzi! Stasera ci saranno John Wick, Jason Statham, Chuck Norris! Fidati di me! Vittoria assicurata! Come Napoli Benevento! Non ci possono fermare! BECONSTOP! ALL OF US! BECONSTOP! ALL OF US! BECONSTOP! BAKENSTOP! ALL OF US! BECONSTOP! PRIVET floors Mode! Ma che ne faccio Daniele? Ci stanno accendendo, Quim! No, no, no! Non lasceremo che Mitch venga catturato! E in più Bruce Lee avrà già accantato l'Ale a Sud con i Kiles! Daniele, Bruce Lee è morto! Che è morto? Ma come è morto? È impossibile! Me lo dici solo per non far imparare la vigliacata che stai facendo te! Non mi hai capito, è morto anni fa Daniele! Io non stavo qui ad ascoltarti, poi ho letto l'articolo sul giornale Il governo non utilizzerà armi le tali per fermarti, quindi... Daniele! Dario, ti prego, non lasciarmi! Devi andare avanti! Devi salvare gli uomini, gli alieni! No, abbiamo ancora tanto da fare! Dobbiamo invadere il Vaticano! La Casa Bianca! La Villa di Silvio, Dario! Ormai è troppo tardi! Io vedo le luci! No, non andare verso le luci! Dario, stai con me! Nessuno io credo verso la luce! E' lei che viene verso di me! La luce! Quindi, se lo fai! E' lei che viene verso ii! Di quanto si sono per la luce! Il frutto si è di alci-mayato! Il frutto è vero che a presto per la temperatura. Ciclata e il frutto! Il frutto è 1 anno E' lei che viene fatto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.